Nel quadro di Reorganizzazione di Correxi Instituto Aruba-Kia, Ministro di Justizia Rocco Chong, ha fatto una visita nel Departamento di Recurso Umano per aver ricevuto relanzo per l'euterno dopo di più di 17 anni elaborando il Sakinan per presentare il rapporto preliminare nel Ministro Chong. Una reorganizzazione come compro in década iniziava nel 2005 e ora, dopo i 17 anni, praticamente non si trova di finalizzare il Sakinan. In questo momento, noi abbiamo la possibilità di conversare con l'equipo di un'esplicazione ampia di tutto il processo con il Sakinan e l'opera non si trova, ma alla fine non si trova e non si trova. In questo momento, noi abbiamo la possibilità di conversare con i colleghi, ma non si trova. In questo momento, è molto importante per realizzare il nostro mistero di altri per rilogare certe cose. Forse è parte di justizia e ora è parte di riorganizzazione. La riorganizzazione è specifica anche per quanto riguarda KIA, ora che ci sono formalizzate, che sia come un'organizzazione per comprare la demanda che è ben ribadito, e la demanda anche non solo di comunità, ma anche se è possibile per noi per comprare le requisite delle leggi, non solo locali, ma anche internazionali. Noi abbiamo bisogno di rilogare, non solo di riorganizzazione, ma in questo momento, abbiamo bisogno di rilogare per fare un'esplicazione di differenti altri aspetti che ci hanno bisogno di rilogare, che ci hanno bisogno di rilogare, che ci hanno bisogno di rilogare. con un'esplicazione di rilogare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.